Seconda giornata del gruppo di degli europei Under-21. Azzurrini ancora arrabbiati per l'ingiusta sconfitta al debutto con la Francia ed infatto dopo appena sei minuti in rigioco, l'Italia è già avanti grazie a un ottimo schema su palla inattiva, batte tonali, Pirola rientra dal primo piano e di testa fa 1-0. Dopo cinque primi, un'altra rete, stavolta con la griffe di Gnonto, una delle novità di formazione, discesa e cross di Bellanova, incornata del numero 17 respinta sui piedi, sulla ribattuta poi non sbaglia e realizza la sua prima realizzazione in Under-21. Sul 2-0, l'Italia continua a dominare fino a metà frazione di gioco. Gnonto va vicino alla doppietta, negatagli solo da un grande intervento di Saipi. Ancora su corner gli azzurrini sfiorano il Tris con Pellegri. Poco dopo anche tonali impegna il portiere elvetico. Poi, però, nella seconda parte di primo tempo i ragazzi di Nicolato abbassano i ritmi e, al contempo, la Svizzera comincia ad entrare in partita. Così deve fare lo stesso anche Carnesecchi, bravo a salvare sulla conclusione di Reader. Poi anche Imeri e Doier ci provano, ma l'estremo difensore dell'Atalanta risponde sempre presente e tiene il 2-0. 15 secondi prima del duplice fischio l'Italia cala anche il Tris, erroraccio della difesa. Parisi ne approfitta e deposita nel sacco il 3-0. Al 47esimo Imeri con un gran destro della distanza sigla la rete dell'1-3. 5 minuti dopo gli elvetici riaprono definitivamente la gara col gol di Amedani, bravo a superare Scalvini e Parisi in dribbling e a depositare alla spalle di Carnesecchi. Nei sette primi successivi la Svizzera va anche vicina al pareggio con Doier e il solito Amedani. E l'Italia non c'è. Superata la fase più critica, i nostri tornano a rendersi pericolosi, senza però la brillantezza che aveva contraddistinto il primo tempo. Nicolato prova a inserire forze fresche, dentro cancellieri all'intervallo, poi Lovato, Ricci e Colombo, ma agli azzurrini continua a mancare intensità. Sul colpo di testa di Scalvini si supera 6p, nella stessa azione cancellieri spara di poco alto. Ma l'azione che quasi vale il 4-2 viene cestinata da Belenova, che solo davanti al portiere non c'entra lo specchio. Ancora peggio, per nostra fortuna, Faméles ha un quarto d'ora dalla fine, con tutta la porta a disposizione spedisce a lato, tra l'incredulità dei tifosi della Cluj Arena. C'è ancora tempo per tremare un altro po', Amedani e Yashari impensieriscono l'Italia nel finale, ma alla fine il risultato non cambia. Finisce 2-3. Finisce 2-3.